Matteo 24, e dal primo versetto, Signore parla al nostro cuore, gloria a Dio. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i Suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, vedete tutte queste cose, io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul Monte degli Olivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo, dici, quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne seduranno molti. Voi dovrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarti, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, poiché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne si ha resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi. E la parola fine ritorna in maniera significativa più volte in questo passo. La fine delle cose tante volte ci incuriosisce, a volte anche ci intimurisce, ci interessa appunto da vicino e noi vorremmo sapere quello che accadrà, come accadrà e soprattutto quando accadrà. Vorremmo sapere appunto la fine delle cose, se c'è un futuro. Gesù ha parlato chiaramente della distruzione del Tempio ormai imminente e quindi i suoi discepoli, un po' anche scossi, chiedono quando sarà la fine di queste cose, se la fine di queste cose combacerà con la sua venuta e quindi con un nuovo inizio. Gesù, vedete, risponde loro in maniera, come possiamo dire, molto forte, facendo notare che devono preoccuparsi innanzitutto non di quando finiranno le cose, ma dei pensieri che possono occupare, turbare, distrarre e confondere la loro mente in questo periodo. Il Signore sa che quando pensiamo alla fine delle cose possiamo essere vulnerabili, possiamo sviluppare delle ansietà, possiamo avere trepidazione, voglia di sapere al più presto e quindi dice loro guardatevi dai falsi profeti, non vi lasciate sedurre. Quando siete portati a voler sapere la fine delle cose voi siete vulnerabili, il Signore sa che delle forze umane, delle voci anche sovrumane possono trovare terreno fertile nell'ansietà, nella voglia di futuro, di sapere le cose del cuore dell'uomo e quindi dice voi innanzitutto non vi lasciate sedurre, non vi lasciate portare lontano da me. Questo discorso che Gesù fa è un discorso profetico e nel raggio profetico c'è anche un adempimento abbastanza vicino, qualcosa che si realizzerà in quell'epoca appunto di impero romano, ma il Signore spiega che nel tempo prima della sua venuta ci sarà come una forza di seduzione, di inganno e vedete traccia alcuni esempi, alcuni aspetti di come possono muoversi appunto i falsi profeti, di come si alimenta a volte la menzogna e il turbamento nello spirito dell'uomo. E spiegando questo vedete innanzitutto parla di coloro che vengono nel mio nome. La prima categoria che il Signore cita sono quelli che verranno dicendo io sono il Cristo. Quindi persone religiose, persone che sembrano farti adempiere subito quello che tu aspetti, che sembrano bruciare le tappe, che tolgono di mezzo la parola attesa e che tu puoi ricevere, puoi realizzare tutto e subito. E sono capaci, dice il Signore, di accreditarsi, di avere un seguito, perché questo è il seduttore, uno che chiama le persone dietro a sé, non dietro al Signore. E si accreditano mediante dei segni che loro compiono. E dice il Signore, se fosse possibile, dei segni da sedurre perfino gli eletti, quelli che già con Dio hanno un rapporto, una comunione intima e personale, colpiscono mediante dei prodigi, perché sono in grado, sembra, di farli avverare. Questo c'è stato in ogni tempo. Già Mosè, quando parla al popolo di Israele, alla nuova generazione uscita dall'Egitto, dice, se in mezzo a te sorgerà un profeta, un sognatore, e ti dice, guarda, io ti dico questo prodigio, accadrà questo, e questo in maniera sorprendente si adempie, si compie, poi questo profeta ti dice, hai visto? E allora ti vuole portare a servire altri dei, ti vuole allontanare dal Signore, tu non lo ascoltare, non lo seguire. È un profeta, è un sognatore, ma innanzitutto un falso profeta. Quelli che a volte hanno la fretta, e nella fretta sono disposti perfino a mettere da parte le scritture, la legge, la parola di Dio, e vogliono un sogno, qualcosa da interpretare all'istante, qualcosa su misura per loro stessi, perché non vogliono aspettare, hanno fretta, devono vedere e compiere i loro progetti, adempiere i loro desideri. Ebbene, quelli sono nella posizione più pericolosa, saranno le prime vittime del prossimo culto, saranno le prime prede di un falso profeta che può allontanarli dal Signore, perché non hanno voglia di aspettare Dio, vogliono innanzitutto vedere realizzati i loro disegni, e saranno sempre seguaci di sogni e di uomini. Sapere la fine prima. Quante persone si sono allontanate con questo desiderio spasmodico? Quante persone si volgono all'astrologia, alla magia, alla stregoneria? Ma quante persone, in maniera più subdola e sembra meno appariscente, si allontanano in realtà dal Signore? Vogliono sapere tutto prima. Perché? Perché in realtà vorrebbero avere tutto sotto il loro controllo, ma è un'utopia. Noi possiamo fare un'altra cosa, possiamo mettere la nostra vita sotto il controllo del Signore. Vogliamo ascoltare Lui, vogliamo entrare nel Suo regno. Quando Dio controlla la nostra vita, lo abbiamo cantato prima. Spirito Santo, prendi tu il comando. Non so come andranno le cose, c'è un altro inno, ricordate, che dice nulla so del mio domani. Ancora il cuore comprende poco, ma una cosa so, anche domani, nel futuro, il Signore mi prenderà per mano e mi condurrà. Quanto sappiamo del futuro? Quanto sai del tuo futuro? Tu dirai molto poco, ma quello che basta per mettere la nostra vita nelle mani del Signore, per poter sapere che noi un giorno lo vedremo faccia a faccia come Egli è, perché saremo simili a Lui. Non sappiamo ancora granché, dice Paolo, vediamo come in uno specchio metallico, in maniera abbastanza oscura, in maniera abbastanza opaca, ma una cosa è certa, che noi lo conosceremo appieno come appieno siamo stati conosciuti, senza veli, perché Dio si sarà rivelato nella nostra vita. E noi di questo vogliamo benedire il Signore. Non vogliamo correre per sapere oggi a tutti i costi quello che ancora non sappiamo, vogliamo aspettare che Dio ci riveli quello che abbiamo bisogno di sapere. A che serve sapere tante cose, magari anche della stessa volontà di Dio, se ancora non le vogliamo mettere in pratica, vogliamo dire Signore, guidaci ogni giorno e giorno dopo giorno, affinché rimaniamo attaccati alla Tua parola e non siamo portati lontani da Te. Non vi lasciate sedurre. Adesso è il momento in cui Gesù deve dire questo ai cuori, a credenti, a discepoli che ancora tante cose non le sanno, poi Gesù quando sarà risorto rassicurerà ancora di più il loro cuore. Ricordate, parla ai discepoli, agli undici, non più a dodici, uno già si è lasciato sedurre, uno che è stato con Gesù, che ha mangiato, ha camminato con lui, si è lasciato sedurre. Quindi stiamo attenti a pensare di essere invincibili e disse loro, dando il comando di parlare del suo regno in tutto il mondo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. La parola fine non ci deve spaventare, non ci deve attirare con pericolose curiosità. A quella parola fine noi vogliamo aggiungere qualcos'altro. Noi vogliamo dire la nostra vita è nelle mani di Dio, del Signore. E quindi so che la mia vita, qualunque cosa accada, continuerà a essere nelle sue mani. Adesso il Signore ti fa sapere quanto basta, quello che ti serve. Noi dobbiamo veramente aprire il cuore. Poi il Signore, come è stato per i discepoli, anche per noi, si rivelerà sempre di più, verrà sempre di più a dimorare nella nostra vita se noi allarghiamo il nostro cuore. E' bello, qui Matteo, vedete, nel riportare questo passo vuole mettere un accento quasi spirituale, quasi simbolico, oltre che profetico, sul fatto che Gesù usciva dal Tempio, se ne andava. E poi di fronte a questi discepoli che sono così entusiasti, questi blocchi di pietra, di marmo del Tempio, gli dice che questo Tempio di lì a poco crollerà. E così sarà. Nel 70 dopo Cristo i Romani non lasceranno praticamente nulla. Ma vedete c'è come un senso spirituale dove Matteo vede che Gesù esce dal Tempio perché adesso si prepara la strada per entrare in un nuovo Tempio, per dimorare in questo Tempio. E questo Tempio siamo noi perché Gesù viene ad abitare nella nostra vita, per lo Spirito Santo. Il Figlio e il Padre verranno in noi, faranno dimora presso di noi, nella nostra vita. Quindi si apre una nuova dispensazione spirituale, il nuovo inizio di un rapporto nuovo di Dio con gli uomini. Allora non vogliamo ascoltare quelli che vengono nel suo nome, quelli che sembrano anticipare il Signore, quelli che ci vorrebbero dire qualcosa che Gesù non ha lasciato scritto. Sono questi i falsi profeti che vengono nel suo nome, animati a volte da un tempismo sorprendente, quasi prodigioso, che ci colpisce. Il Signore ti ha parlato, ti ha detto qualche cosa, ti ha messo qualcosa in cuore, ti ha rassicurato, forse ti ha corretto. Stai sicuro che di lì a poco verrà un'altra voce che ti dirà il contrario e che dirà io sono il Cristo, io sono il tuo Signore. Quando Cristo ti ha parlato d'amore, loro metteranno ancora nel tuo cuore l'odio. Se Cristo ti ha parlato di perdono, loro metteranno ancora la vendetta. Se Cristo ti ha parlato di luce, loro ancora potranno tenebrare il tuo cuore. Sono questi i falsi profeti che arrivano con questo tempismo sorprendente, quasi a voler aggiungere qualcosa alla parola del Signore, alla Sua voce. Quando Dio ti parla dopo che hai letto la Sua parola, quando il Signore ti tocca il cuore dopo che sei stato al culto, quando il Signore ti ha convinto di qualcosa dopo che lo hai invocato, conserva la parola di Gesù nel tuo cuore. Perché senza che tu l'abbia cercato, verrà quella falsa profezia per sedurti e per allontanarti da quello che il Signore ti ha detto, dalla decisione che hai preso alla Sua presenza. Ma il Signore ci ha preavvisato e ci dice ancora stasera, non vi lasciate sedurre. Non lasciare sedurre il tuo cuore da nessun pensiero, da nessun sussurro. Ci sono quelli, dice Gesù, poi che cavalcano le paure ed è uno dei brodi di coltura della falsa profezia della seduzione per eccellenza. Da sempre, quanti hanno speculato sulla fine del mondo? È sempre stato così, cavalcando le paure, le ansietà. Il mondo sta per finire, ho questa rivelazione, andiamo su quel monte, fondiamo questa setta, facciamo questo, facciamo quell'altro. Guerre, rumori, c'è conseguenze di guerre, carestie, cataclismi. Allora subito arrivano i falsi profeti a dire questo è un segno di, questo è un prodigio per quell'altro, questo ci dice che il Signore è alle porte e siamo pronti a volte a dimenticare la parola di Dio. Facciamo attenzione, non ci lasciamo sedurre. Gesù dice semplicemente queste cose accadono, ma attenzione queste cose non sono ancora la fine, anzi saranno il principio di dolori. Che cosa vuole dire innanzitutto ai discepoli? Vuole dire voi non dovete concentrarvi su quando accadranno determinate cose, quando saranno determinati eventi, ma su come sarete voi quando questi eventi saranno trascorsi, perché non sono la fine, c'è qualcosa dopo questi eventi. Tu magari ti preoccupi anche da un punto di vista umano, emotivo, legittimo. Quando finirà questo periodo? Quando si concluderà la mia prova? Quando terminerà questo brutto quarto d'ora che sto vivendo nella mia vita di incertezza, di ansia, dove non so come andranno a parare le cose e sei tutto proiettato su quello che accadrà, su quando accadrà. Il Signore invece ti dice stasera come sarai tu quando le cose accadranno e come sarai, resterai tu quando queste cose passeranno, quando la fine della tua prova sarà avvenuta. Sarai lo stesso? Sarai nella stessa comunione con Dio? Avrai gli stessi sentimenti di fiducia, di obbedienza, di consagrazione verso il Signore? Perché tante volte la prova è terminata, la parola fine per il tuo disagio è giunto e tu dirai finalmente! Ma il problema è che tu e io non siamo più gli stessi. Abbiamo perso per strada le cose più importanti. Come arriverai tu alla fine della prova? Stasera non ti concentrare soltanto nel pregare Dio e dire Signore fallo finire, falla finire, quando passerà, quando finirà, ma concentrati nel dire Signore mantienimi fedele a te, opera nel mio cuore. Perché di persone che al termine della prova in pratica si erano lasciate ormai sviare purtroppo ce ne sono tante, sono tempi difficili, non abbiamo nessuna fatica a riconoscerlo, il futuro non è affatto roseo, è certo, però non diventiamo seguaci di segni, né di prodigi e non diventiamo neanche prede di paura, pronti a rincorrere questo, a fuggire da quell'altro e in quella rincorsa, in quella fuga non ci accorgiamo che magari ci stiamo allontanando dal Signore, dalla Sua volontà, dal Suo piano. Eppure vogliamo diventare prede della superstizione, di soluzioni immediate, di soluzioni fortunose, anche nel tempo che stiamo vivendo, a volte sembra a buon mercato e magari tentiamo la sorte dimenticando che la nostra vita è nelle mani di Dio. L'altro giorno sono andato a pagare la bolletta della luce, ho dovuto fare la fila dal tabacchino, era pieno di persone che compravano il lotto, il gratta e vince, tutte quelle cose, persone che giocavano, che scommettevano e tentavano la fortuna. Gli ho detto io non devo scommettere, se me la fate pagare devo pagare la bolletta, un'ora per pagare la bolletta. Tanti stanno cercando soluzioni fortunose, immediate, non si vuole attendere, si vuole anticipare la fine, si finisce schiavi di ogni superstizione, di ogni speculazione. Vedete, dice il Signore, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Questa è una parola per me, per te. Cioè il Signore ci sta dicendo non vi concentrate a vedere quanta cattiveria c'è nel mondo, quanto possono avanzare le tenebre, quanto può avanzare l'opera del nemico, perché a furia di parlare del nemico rischiate di contemplarlo e perfino di innalzarlo. Ce n'è già troppo di spazio per il nemico, vogliamo dare spazio al Signore. Non vi concentrate sul nemico che avanza, concentratevi sull'Evangelo che avanza, su quello che fa la luce, il Regno di Dio. È lì che voi dovete guardare alla fine. La fine non la decreta il nemico con la sua malvagità, la fine viene dal trono di Dio che è il sovrano e che vuole la salvezza di ogni anima, in modo che noi possiamo essere coinvolti, partecipi dell'opera di Dio, invece di subire la fine. Come dice Pietro? Sì, è vero, questo mondo, dice, andrà incontro alla fine e gli elementi saranno dissolti. Immagina chissà quale cataclisma, ma non deve essere così per voi, per la vostra fede. Voi invece dovete continuare ad annunciare il Regno di Dio. Se dovete affrettare la fine, la venuta del Signore, dovete affrettarla con la vostra fede, non con la vostra disperazione. Questa è la cosa più importante che Gesù ci insegna riguardo alla fine. Sono quelli, come falsi profeti, che in ogni tempo, dice Gesù, sono emersi dalle grandi crisi sociali. Quando nel mondo l'iniquità aumenta, aumenta il disordine sociale, il caos civile e ci dà una terza categoria di seduttori e di falsi profeti. Quelli che emergono pensando di avere la soluzione e si fanno un grande seguito. è sempre stato così. Guardiamo un po' la storia dell'umanità. Nei grandi momenti di crisi è sempre emersa la persona forte. Ce lo dice anche Giovanni, ricordate nell'Apocalisse, una bestia che sale dal mare agitato delle nazioni, cioè dal caos umano, dal caos mondiale, viene questa persona che ha un grande seguito e che sembra veramente poter risolvere i problemi di tutta quanta l'umanità. State attenti, dice il Signore, non vi lasciate sedurre. Non andate dietro a quelli che sembrano avere la soluzione più facile per i vostri problemi. State insieme a quelli, camminate insieme a quelli che vanno dietro al Signore e alla sua parola. Che non sono interessati alla fine del problema, ma sono interessati a continuare a seguire e a servire il Signore. La tua ansietà può essere un terreno fertile per lasciarti ingannare. La tua voglia di sapere come andranno le cose può essere il brodo di coltura proprio per un falso profeta, una falsa profetessa che ti può portare lontano da Dio. E quindi vedete, dice il Signore, questo potrebbe attecchire, attecchirà nella Chiesa l'iniquità nel mondo. Si svilupperà, aumenterà e questo avrà come un contraccolpo, un riflesso spirituale anche tra i credenti, perché la carità invece verrà ad affievolirsi. Non sta dicendo che aumenta l'iniquità dei credenti, ma che diminuisce il loro amore, la loro devozione per il Signore. Perché guardano al mondo e tante cose che accadono, perfino la loro persecuzione, perfino vedere credenti ammaliati da falsi profeti che invece di amarsi si odiano e si tradiscono a vicenda, questo dice spegnerà l'adorazione in tanti, il fuoco, l'entusiasmo per la gloria di Dio, per il servizio al Signore. Quindi rischierà di iniziare un nuovo cristianesimo che è un cristianesimo che ormai disconosce il Signore e cerca soltanto di avere dei buoni, dei forti legami umani per non essere perseguitati, per non essere traditi e ci si dimentica che noi abbiamo bisogno di amare e di servire il Signore. Un cristianesimo cioè influenzato dai seduttori e dai falsi profeti invece di essere illuminato e condotto dalla parola del Signore. Quando si segue il secondo comandamento di Gesù, ma si trascura il primo, quando gli hanno chiesto a Gesù, faccio una sintesi della legge, ama Dio con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Vuoi che ti sintetizzo il secondo dall'amare i genitori fino a non concupire le cose del tuo prossimo? Ama il tuo prossimo come te stesso. Si fa strada nella Chiesa un cristianesimo che esalta il secondo comandamento, ma inizia a trascurare il primo. Ed è la cosa più suddola, è uno sviamento difficile da rintracciare, perché sembra che siamo tutti quanti buoni, non solo in determinate feste. Sembra che tutti quanti siamo pieni di attività sociali, di dibuonismo e di altruismo, però si sta affievolendo la carità, cioè l'amore verso il Signore. Pietro lo ribadirà quando parla della fede cristiana che deve rimanere virtuosa. Alla fede aggiungete la virtù e quando termina, dice, alla pietà aggiungete l'amor fraterno. Ma aspettate, non ho finito, non ho concluso, dice Pietro. All'amor fraterno aggiungete l'amore, perché quello è il vincolo della perfezione. Quando noi esaltiamo soltanto una fraternità umana, il secondo comandamento, ma dimentichiamo l'amore per Dio, è una fraternità umana che rimane orfana, priva della paternità di Dio. E sapete perché noi perdiamo la paternità di Dio? Perché rigettiamo la sua autorità, la sua parola. Allora ci stringiamo gli uni con gli altri, dimenticando che il Signore deve guidare la nostra vita. Questi, dice Gesù, sono i falsi profeti più subdoli, quelli difficili da rintracciare, ma il Signore continua a toccare, a illuminare, a scuotere la sua chiesa affinché nessuno si lasci sedurre alla chiesa di Efeso. Il Signore riconosce la costanza, la perseveranza. Io so che tu hai sofferto tante cose, io so che tu sei attaccato alla mia parola, tu hai riconosciuto i falsi apostoli, le loro false profezie, le loro false dottrine, so che in tante cose vai avanti, ti affatichi, operi, ma ho questo contro di te. Sei rimasto incostante nella cosa che più conta. Hai perseverato in tante cose, ma tu hai perso il tuo primo amore. Parli tanto di fraternità, ma hai perso la paternità di Dio. Hai perso l'amore per il Signore. Nel mondo l'iniquità aumenterà, nella chiesa la carità, dice il Signore, si raffredderà. Ecco perché questo Vangelo del Regno deve essere predicato. Ma allora di fronte a tutto questo c'è da chiedersi, da cercare discernimento, il Vangelo di quale Regno? È il Regno del Signore? È quello della Sua parola? È quello che Lui ci chiede? Io dico spesso a chi vuole promuovere mille attività per raggiungere gli altri, per fare del bene, nella perfetta buona fede. È quello che la parola ci insegna? È quello che Dio ci chiede? Perché Dio non ci ha chiesto innanzitutto di fare del bene a modo nostro. Dio ci ha chiesto di fare la Sua volontà, di rispettare la Sua autorità. Non vi lasciate sedurre. Di persone che promuovono un altro Regno, che somiglia a quello del Signore, che a volte sembra viaggiare in parallelo, ma che nei fatti è opposto al Regno del Signore, l'umanità è stata sempre piena. Ecco perché il Signore definisce questo Vangelo del Regno, il Vangelo che deve essere predicato secondo il Suo comando, perché ci sono altri Regni dove le persone usano pure un gergo religioso, perfino una terminologia biblica. Ci stanno allontanando dal Regno del Signore. Nell'Ottocento hanno usato la parola risorgimento. Non vi sembra una parola che ci fa pensare alla resurrezione del Signore? Chi l'ha promosso il risorgimento? Con degli ideali anche alti, di uguaglianza, di fraternità, per risolvere i problemi di giustizia, di pace per le nazioni. Chi l'ha prodotto? La massoneria. Erano dei massoni. Erano persone che non avevano nulla a che fare con il Regno di Dio. Dicevo l'altro giorno con qualche fratello, noi queste cose dovremmo chiarirle, dovremmo dirle. Perché a volte ci sono alcuni che ti attirano in maniera assuadente, convincente, per fare del bene. Ti parlano di uguaglianza, ti parlano di fraternità mondiale, ti parlano appunto di pace, di ordine. E tanti magari anche bravi, sinceri credenti che occupano dei posti importanti nella società, dei ruoli, sono in qualche maniera raggiunti, convinti da quello che sembra un ideale, ma questo voler promuovere una nuova umanità, un nuovo ordine mondiale, come si dice di solito nella massoneria, non è altro che un contraltare al Regno di Cristo, non è altro che la preparazione del Regno dell'Anticristo. Ecco perché un credente con la massoneria non deve, non dovrebbe mai avere nulla a che fare. Io non entro nel merito delle iniziative sociali che a volte possono usare delle belle parole di beneficenza e di giustizia e di altro. Dico solo che nei fatti noi sappiamo che la giustizia non appartiene a questo mondo. La vera giustizia, dice Pietro, noi l'aspettiamo dal Signore, aspettiamo il suo Regno dove abita la giustizia. Ma dobbiamo sapere che dietro tanti proclami c'è la preparazione a un Regno che è l'esatto opposto al Regno millenniale di Cristo. Dietro tanti simboli, dietro tante promesse, dietro tante belle parole, c'è soltanto la falsa profezia, la falsa predicazione del Regno dell'Anticristo. Allora stasera il Signore ricorda, dice a ognuno di noi, non ti lasciare sedurre, non andare dietro a quella voce, non andare dietro a quel sussurro, non andare dietro a quel segno, neanche a quel prodigio. Cammina a camminare con Gesù, continua a camminare con Lui. E se ancora non gli hai dato la mano stasera puoi dare veramente la mano al Signore. Ma persevera, persevera nella fede, persevera nella verità, persevera nella carità. La parola fine non ci deve far paura. Noi aspettiamo un nuovo inizio, nuovi cieli e nuova terra. Finché siamo qui faremo la nostra parte, ma la vogliamo fare con il Regno di Dio e non seguendo delle false profezie umane. Gesù proclama la distruzione del Tempio, c'è qualcuno che ne vuole edificare un altro, che vuole fare da contraltare alla parola del Signore, a dire io risolvo i problemi dell'umanità. Stasera vogliamo ricordare che ogni giorno, penso sia stato detto già abbondantemente nelle testimonianze, ogni giorno noi vogliamo essere pronti per il ritorno di Gesù. Non guardare adesso con ansietà, con distacco, perché già questo ci mette in una posizione di debolezza. Vogliamo rimanere fortemente attaccati alla parola del Signore. Tu lo sai stasera. Quale voce ti sta seducendo? Quale pensiero ti sta ammaliando? Quale offerta, quale proposta ti sta portando lontano dal Signore? Quale soluzione facile ti sta incoraggiando a sciogliere le briglie della tua fedeltà al Signore? Non ti lasciare sedurre. Persevera nelle vie del Signore. Alziamoci in piedi, cerchiamo la sua faccia.